Domenica 26 febbraio alle 10.30 Antonio Di Pietro a San Salvo presso l'Arco della Terra. Ci presenta l'evento Paolo Palomba, consigliere regionale dell'Italia dei Valori. Allora consigliere Palomba, partite alla grande con Di Pietro che viene a sostenere la candidatura di Antonio Cilli del vostro candidato sindaco alle primarie del nuovo centrosinistra. Sì Orazio, noi se ti dico come tu ben saprai venerdì scorso a Milano c'è stata una grandissima manifestazione vent'anni da mani pulite e io mi sono permesso, ti dico la verità anche con un po' di imbarazzo considerando la situazione a Milano. Ho chiesto al Presidente, Presidente quando ci onori della tua presenza qui a San Salvo e lui mi ha risposto semplicemente dicendo Paolo come faccio a non essere a San Salvo, è una città che essendo mia pensa da casa tua a casa mia, ci dividono solo 10 chilometri e quindi sarò sicuramente a San Salvo. E quindi c'è un'ora della sua presenza, domenica come dicevi tu alle 10.30 il Presidente Di Pietro. Tu andò te l'aspettavi che lui chiamasse Di Pietro e che Di Pietro venisse a sostenerti addirittura alle primarie. Capisco che verrà dopo se sarai il candidato del centro-sinistra, ma insomma viene pure alle primarie. Ci speravo, diciamo che ci speravo, però dobbiamo essere sinceri e onesti, è una competizione interna a questa coalizione e avere la presenza in questa competizione dell'Onorevole Antonio Di Pietro è per me motivo di grande orgoglio, di grande forza e spinta verso la vittoria finale. Vedi, questo è il segno tangibile, credo che questo partito, l'Italia dei Valori, in silenzio, magari in punta di piedi, sta costruendo qui a San Salvo l'intera filiera che parte dal Comune e può arrivare sino a livello nazionale. E quindi è una valida alternativa politica in campo a tutte le forze esistenti. Credo che soltanto l'Italia dei Valori oggi possa assicurare la presenza sia a livello cittadino, a livello provinciale, a livello regionale e a livello nazionale. Ricostruendo la presenza all'interno di tutte le istituzioni e dando garanzia di onestà, pulizia, trasparenza e di un diverso modo di amministrare. Quindi voglio concludere queste prime battute con lo slogan che ha caratterizzato la mia nuova campagna per le primarie. Adesso è il momento di cambiare e con l'Italia dei Valori e con l'Onorevole Di Pietro si può fare. Consigliere Valomba, abbiamo visto che il suo collega Walter Caporale, consigliere regionale dei Verdi, ha diramato un comunicato in favore di Antonio Cilli dicendo che i Verdi di San Salvo sostengono la sua candidatura. Prima di questo appoggio dei Verdi c'è stato da voi il passaggio del ex Assessore Nicola Sannino, che era iscritto al PD, poi aveva fondato San Salvo Democratiche e adesso ha scelto di stare con voi sia a queste primarie e poi evidentemente nella vostra lista fare questa battaglia con voi. Antonio in qualche occasione leggeva questi appoggi, questi sostegni come il segno tangibile di un partito in crescita. In effetti come lui ricordava, tu stai alla regione, poi avete Natale alla provincia, avete ovviamente Di Pietro in Parlamento e il gruppo parlamentare e manca solamente il comune in cui sicuramente sarete presenti, però voi vorrete essere presenti diciamo al massimo livello. Ce la farà, ce la può fare Antonio? L'auspicio di tutti, il mio più grande desiderio per quanto riguarda le amministrative di San Salvo è questa chiaramente ed auspicio anche mentre stiamo facendo questa intervista che stanno già annunciando per domenica l'incontro con Antonio Di Pietro. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, nell'intero territorio si sta come tu ben sai a Cupello aderito il candidato sindaco del centrodestra con noi Boschetti Marco ieri l'altro proprio è venuta una rappresentante del comune di Carunchio e quindi la prossima settimana anche a Carunchio saremo presenti con una sede dell'Italia dei Valori e quindi in continua crescita nel nostro territorio. L'entrata io do l'augurio e il benvenuto a Nicola Sannino che io conosco benissimo, è un grandissimo lavoratore e quindi diciamo che abbiamo fatto un grande acquisto per la nostra squadra. Ringrazio anche Walter Caporale per la sua adesione, per il suo comunicato che ha fatto a favore di Antonio. Noi ci rappresenta una ragazza straordinaria, un animalista che si chiama Jessica, Jessica Conti, che io ammiro molto per la sua passione per questo settore. E quindi stiamo facendo questa grande squadra. L'augurio nostro è di farcela, Horatio. Non abbiamo grandi possibilità, siamo tutti vicino ad Antonio e Antonio è un ragazzo che merita. Ama la sua città come ama tutto il territorio. In bocca al lupo Antonio. Vabbè, questo è un altro auspicio. Sicuramente ti darà queste parole, forse anche più calte e autorevoli quelle che riceverai da Di Pietro dopo domani. Ecco, ma nella ipotesi che si avverasse l'augurio, l'auspicio che faceva il consigliere Palomba e tu dovessi diventare sindaco di questa città, che sindaco sarai? Ora, parliamoci chiaro, c'è De Magistris, c'è Pisapia, ma ci sono anche sindaci molto sobri, molto istituzionali. Tu, se dovessi diventare sindaco, conciliando ovviamente col tuo carattere e con la squadra che lui testè ricordava, che sindaco sarai? Ho ricordato nel mio intervento un passo di Gandhi, una citazione del Matt Magandi. Ognuno deve essere il cambiamento che vuole vedere, quindi voglio essere il sindaco di tutti, un sindaco che è in prima linea, un sindaco in mezzo alla gente, un sindaco di San Salvo che ama la sua città, che ha capacità di ascoltare le persone e per fare questo dobbiamo fare sì che tutti insieme ricostruiamo una comunità e abbiamo voglia tutti insieme di cambiamento e ciascuno di noi deve essere l'esempio, ciascuno di noi deve essere il cambiamento che vuole vedere. È chiaro che se nella società San Salvese, Orazio, non c'è questa volontà, c'è ancora la voglia di votare i soliti soggetti, di affidarsi a lobby economico-politiche consolidate, è chiaro che la mia candidatura probabilmente non ha granché senso. Se invece la società San Salvese è una società matura che ha voglia di un vero cambiamento e ha voglia di una sinistra riformista, innovatrice, giovane, capace, dinamica, non interessata, mi permetto di dire, che con non molti interessi economici privati, allora può darsi che sia giunto il tempo di cambiare e è giunto il tempo forse di Antonio Cilli. Perfetto, ricordiamolo ancora, domenica mattina 26 febbraio, ore 10.30, l'Italia dei Valori con il leader nazionale Antonio Di Pietro.